Nicchi Vendola, abbiamo fatto una piccola scoperta molto interessante, cioè pare che ti darai al cinema, hai già fatto un cammeo prezioso del film di Che Cosalone, che voi vi ricorderete che il rapporto tra Vendola e Che Cosalone è rimasto epico, diciamo. Che parte fai in questo film? Interpreto Nicchi Vendola. Ah, ottimo. Lo sai fare bene quindi quello. Mi è riuscito abbastanza bene, sì. Credo che a giorni uscirà questo film, io penso che sarà una bella sorpresa. In realtà non è la prima volta, perché ho già partecipato a un film simpaticissimo che si chiamava Focaccia Blues con Lino Banzi. Scusate, ma noi ce l'abbiamo quella meravigliosa Che Cosalone che fa Nicchi Vendola, è rimasto veramente un pezzo meraviglioso. Eh, facciamoglielo vedere, perché c'è un rapporto particolare fra i due, guardate, Che Cosalone che fa Nicchi Vendola. Che crudele.